Buongiorno, mi chiamo Andrea Ebone, lavoro all'istituto piante da legno per l'ambiente di Torino, ente strumentale della regione Piemonte che si occupa fra le varie cose anche di forestazione, di protezione dell'ambiente e di gestione delle aree protette. Io mi occupo nello specifico di aspetti forestali, essendo un forestale. Per quanto riguarda il progetto WD3 mi occuperò dei cantieri sperimentali e di attività di supporto allo sviluppo degli indicatori e quindi dell'impact a sesta natura. Grazie.